Informazione a 360 gradi con servizi, interviste, approfondimenti speciali e tutte le ultime notizie dall'attualità allo sport, dalla cronaca alla politica, passando per gli eventi, l'economia e gli spettacoli. Tutto in un solo tap per leggere le notizie in tempo reale e condividerle sui social network, mail e whatsapp e la nuova app di La C, TV, radio e internet, tutte insieme per offrirti la migliore informazione possibile. Una nuova applicazione che consentirà di raccogliere più voci, ci sarà la sezione blog e editoriali per raccogliere tutte le voci, tutte le opinioni di questa nostra regione. Il tutto in tempo reale, stare sulla notizia la vera nostra missione, ma soprattutto tutto questo in un incubatore, appunto l'applicazione che è una delle più moderne sul panorama nazionale. Senza cambiare app potrai guardare tutte le edizioni del telegiornale, la TV in diretta streaming o ascoltare le ultime hit sull'AC radio. Chiaramente l'applicazione avrà nuove voci, ci saranno tutti i nostri contenuti, quelli audiovisivi e quelli di testo. Insomma un nuovo, una nuova applicazione che darà delle novità importanti, il tutto mantenendo sempre il nostro faro, e cioè l'innovazione, l'innovazione dell'informazione in questa regione sotto forma di network. Per scaricare la nostra app accedi agli App Store da Android o iPhone.